Atalanta, amanti della caccia, bentornati dal vikingone, oggi siamo su Monster Hunter Rise e la mia intenzione è quella di fare una versioncina veloce veloce sulle missioni di addestramento giusto per capire un po' le basi del gioco e non rimanere impantanati quando le cose si faranno più serie ho intenzione di fare una rubrica su Monster Hunter, devo decidere il nome, però sicuramente la voglio portare avanti per tutto l'anno avrete notizie a brevissimo nelle prossime settimane, nel frattempo partiamo per questa missione cagliardissima il palcoscenico dei forti, l'arena, ok eccoci, inizio missione, siamo all'arena, maestro Tsushi ci parla grande maestro Tsushi, ehi là, sei qui per sapere di più sulla cavalcatura delle Viverne, è vero? grandioso, sarò felice di farti la guida, ok, iniziamo le talle basi la cavalcatura Viverne è una tecnica molto efficace che usa la seta ferro per piegare un mostro al suo volere durante la cavalcatura Viverne puoi obbligare il mostro ad attaccare altri o farlo schiantare contro i muri, infliggendo più danni, quindi self damage noi lo domiamo, noi lo cavalchiamo, noi lo facciamo schiantare tuttavia ci sono dei passi da seguire per eseguire la mossa correttamente beh, immagino, ed è questo che faremo oggi quindi quando vuoi, vieni di sotto e ti darò più informazioni al riguardo tempo limite è 50 minuti, quindi vediamo se ho capito bene andiamo giù cavalchiamo mostro, gli facciamo fare cose, la barra Viverna si impenna e da quel momento in poi possiamo fare delle mosse incredibili arma sguainata, LT arma sguainata, LT o fil di seda proviamo l'ipsilon uh, boom faccio il capriolone in avanti e invece con B che cosa succede per esempio? oh, fida boom, una mega botta incredibile oh, fida tutto chiaro sul metodo del fil di seda? bene, ora ci alleneremo usando una splendida forma di fauna endemica il burattiragno ce n'è uno proprio lì perché devo domesticare questa cosa così piccola? nelle mani giuste la tela appiccicosa, resistente e sedosa prodotta da questo ragno può servire a rendere un mostro cavalcabilissimo per cavalcare i mostri puoi usare un metodo con il fil di seda o un burattiragno entrambi funziona un burattiragno bisogna vedere se quando stiamo combattendo poi il mostro è in questione si trova nei paraggi del combattimento quindi direi di affidarci di più sul fil di seda fondamentalmente avvicina un mostro cavalcabile per avviare una cavalcatura viverna attaccalo o premi B con l'arma rinfoderata tutto chiaro su come inserire la cavalcatura viverna? ora devi solo provarci sul campo e scoprire quale metodo è il più adatto a te che le dici di provarci? benissimo per l'occasione ho preparato un Arzuros una roba easy proprio entrambi i metodi funzionano ma prima cerca di renderlo cavalcabile dov'è l'Azuros? ok rendi il mostro cavalcabile bellissimo è bello che è dai bellissimo buratti ragno l'ho preso va nell'inventario chiaramente sta madonna che bello è bellissimo hopperà vediamo se te la cavi adesso oh bravo bella culata capito? le toto sul sederino mezzo stordito si distordiscono non mi ricordo tutte cose da ricordare da capire mentre si gioca boom 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 eh no 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 sono convinto di avere la super armor invece no non funziona la super armor parti rotte di Azzurros che cosa abbiamo rotto dell'Azzurros eh amico just in time andiamo via qua fiamo grande tottores ora che gli abbiamo schiantato anche l'universo in faccia hanno un design bellissimo le mostre sono straordinarie ma che dici questo è uno degli attacchi più brutti che si possono fare oh no vediamo un po' di motion pozione verde pure un posto burattiragno eccolo finalmente l'abbiamo cavalcato con RB lo cavalco adesso gli facciamo schiantare che figata ma è una figata estrema dopo aver lanciato un mostro contro un muro un ostacolo premi A per recuperare l'equilibrio verrà usata la barra in setto filo usando di nuovo il lancio a mostri in questo stato al momento giusto avrai schiantare probabilmente il mostro infeggendogli così numerosi danni ok lancio a mostri andavo per colpire un muro recuperare l'equilibrio e il muro dov'è? ahi dov'è il muro maledetto muro unitore cavalcabbi eccoci qui che facciamo botte con un altro più attacchi rifaccio la barra sotto mesi la barra del ipinano fai così botta di qua botta di là perfetto quando la barra cavalcatura vi verna è piena premi y e b per mettere a segno un devastante punitore cavalcabile questa mossa è disponibile solo per un tempo limitato abbiamo capito è la super praticamente wow missione compiuta perfetto che spettacolo ce l'abbiamo fatta missione compiuta prendi tutto abbiamo una carne cruda una razione pozioni pozioni niente praticamente nulla abbiamo ricompensa ottenuta va bene punti camura nuovo filmato il contenuto aggiunto possiamo continuare fantastico va bene ragazzi un video molto veloce devo dire una cosa non ci ho capito niente sulla cavalcatura quindi penso che lo rifarò da capo ma questo era un po' per rompere il ghiaccio e per portare avanti il contenuto su monster hunter per questo video è tutto noi ci becchiamo alla prossima occasione ragazzi buon ragazzo a tutti ciao